Ciao a tutti amici, benvenuti in questo nuovissimo video della Black Legacy. Spero che mi sentiate meglio rispetto agli ultimi video perché ho cambiato le cuffie e quindi l'audio dovrebbe essere un pochino migliorato. E quindi riprendiamo la partita, sono le sette e mezza di sera, le 19.31 precisamente, i nostri gemelli sono qua tutti e due da bravi adolescenti con il cellulare ovviamente che stanno cenando. Ellie è a dormire perché è stanca morta e lui è sveglio perché deve cambiare Brandon, perché ha il pannolino sporco, ma adesso si sta svegliando Brandon. E niente, riprendiamo la partita, l'ultima volta finalmente la nostra Grace si è fidanzata, si è messa insieme, com'è che si chiama? No, ho sbagliato il nome, Iroko, che è un membro della squadra di football e gioca insieme, scusate, a Noah, che Noah, quando ha appena aperto la partita, ha ricevuto un messaggio direttamente dalla sua amica, migliore amica, ovvero Aria, che dovrebbe essere amica anche di Grace, se non sbaglio, sì, è amica comune con Grace. Ma riprendiamo subito, vediamo un po' di quello che hanno bisogno. Allora, lui è andato a dormire e non ce la fa più, direi tesoro dormi a questo punto. Sono tutti esausti qua gli adulti, lui va a lavarsi i denti, magari non qui, ma sì, facciamo un po' quello che vogliamo. Lei sta andando in bagno. Allora, che cosa deve fare? Anche lui dovrebbe andare in bagno, però fai una cosa, ripulisci. La casa sta diventando davvero piccolissima e appena questi due diventeranno... Dove lo stai portando? Ah, sta ripulendo tutto il lotto, giusto, bravo. E appena questi due diventeranno giovani adulti, che manca una settimana sim, andranno a vivere per conto loro, perché non ce la possono più fare. Oggi è lunedì, non ha fatto nemmeno i compi, non ha fatto niente, non hanno tempo per fare nulla, sono sempre esausti poveri, e direi, vabbè, di andare a dormire, no, il tuo letto è questo. Quindi dormi, anzi, perché lei desidera chiacchierare con Sim, per cui è una cotta, però dormi. Tu sistema tutto, bravo, anche qui tutte le cose puzzolenti, eccetera, e poi magari andiamo un po' più veloce. E poi mandiamo tutti a dormire. Dove? Ma scusami, ripulisci. No, lei porta in casa e li mette giù. Bravo, ripulisci tutto. Ah, e passa anche l'aspirapolvere, non puoi passare l'aspirapolvere, no? Ma ce l'ha l'aspirapolvere almeno? No, fa niente, vai in bagno, basta, e vai anche tu a dormire. Anche lui non ha fatto i compiti, però non li fa quasi mai. E comunque, anche se non fa mai i compiti, ha otto come media, quindi direi bravissimo. Il piccolino si è svegliato tutto puzzolente, quindi direi di cambiare il pannolino, anche se non abbiamo un affasciatoio. Infatti abbiamo qua tutti i pannolini puzzolenti, li sistemo io, li butto io, perché se no... Ne abbiamo un altro, fantastico. No, questo... Ah no, scusate, questo è un giocattolo. E gli diamo la pappa, vediamo che cosa ha bisogno sto piccolino. Allora, gli diamo la pappa, quindi cura dei nonati, nutri, allatta il seno. Lo allattiamo al seno. Se si mette comoda. Oh, che carino, che stanno allattando al seno. Lui sta dormendo perché è esausto. Volevo andare avanti anche con la sua carriera. Ho messo un po' tutto in stand-by, perché... Con la nascita anche del bambino e tutto quello che è successo. Quindi anche le varie aspirazioni, ho messo tutto in stand-by. Devo effettuare controlli ispettivi su tutti gli immobili, quindi devo andare anche avanti. Ho messo un po'. Oh, meglio. Che carino. Scugliamolo un po'. E poi, visto che sono le due, lo metterei a letto. Oh, che carino. Io direi di fare anche una foto. Poverino, lui vuole una passeggiatina. Vuole fare una passeggiata, ma farei una foto di loro due. Perché sono troppo dolci. Se ce la faccio. Oh, guarda che carino. Vabbè, no, ho cambiato idea, non faccio la foto. Allora, mettiamo a letto il bambino. Metti Brandon a dormire. E visto che non c'è nessuno e lei è abbastanza riposata. Non ha più sonno. Mettiamo Brandon qui. Se ce la fa. Ti ha fatta male perché ha lattato il seno. C'è qualcosa che non va. Ok. Metti Brandon qui. Vediamo se ce la fa. No, questa casa sta diventando davvero piccola. Non ho spazio per nulla. Oh, una pietra miliare. Oh, ridi. Che carino. Ridere per la prima volta. D'ora in poi non riuscirà ad attrenere più l'adorabile... La più adorabile delle risetine quando si divertirà con i giocattoli. Allora, facciamo così. Visto che non ha sonno, stai sul pancino. Devo un po' pulire perché... Lui si è svegliato. Butta via, per favore. E poi magari fa da mangiare. Oh, sto giocando a Bubusette. Tengo il bambino. Il mio orgoglio. Che carine. Cioè, guardate un altro... Una cosa. Lui vuole fare un altro figlio. Oh, rotolati sulla schiena. Abbiamo avuto un'altra pietra miliare. Va bene. Allora, io direi che... Possiamo fare... Ci facciamo la doccia. Un'infestazione di insetti. Ok, una cosa alla volta. Ok, ma andiamola a fare una bella doccia tranquilla. Tu ti prendi qualcosa da mangiare. Quindi... Apri. Abbiamo anche il latte. E ci prendiamo la porzione. E poi ci occupiamo del bambino. Facciamolo dormire rassicurandolo. Dai il bacio della buonanotte. Accendiamo anche la radiolina qua. Riproduci la nanna. Ninna nanna o. Oh, pietra miliare. Hai iniziato a muovere le braccine. E ha... E ha anche una nuova stravaganza. Quale? Il ciuccio terapia. Brandon cercherà spesso di autoconfortarsi. I lattanti con la stravaganza ciuccio terapia hanno più probabilità di mettersi le dita delle mani e dei piedi in bocca per calmarsi. Ma che carino, guardate! Infestazioni di insetti. Qui a Trelungo Fiume Isda nell'utea familiare Paun sempre lui degli insetti disgustosi stanno sbucando da ogni minuscolo interstizio. Visita l'unità abitativa per risolvere il problema. Assolutamente. Adesso appena finisce di fare colazione comunque provvediamo subito ad andare lui ha bisogno di un bagno povero cagnolino. Allora gli faccio finire qua le due ore. Ok te lo sposto io è vero oggi è anche la vigilia di Natale quindi dobbiamo occuparci un po' dello spirito festaiolo i ragazzi sono svegliati che se non sbaglio loro vanno a scuola oggi vediamo se infatti oggi vanno comunque a scuola e domani invece è proprio Natale. ok io direi di lasciare questa unità familiare per andare dal vecchio e passa il controllo dell'unità familiare no no non volevo passare il controllo visita l'unità abitativa da solo il vecchietto qua ci sta dando un sacco di problemi perché non paga non pagano molte eccetera dobbiamo calpestare gli insetti e usare un dispositivo di fumigazione va bene quindi ah dobbiamo anche consegnare la multa quindi bussiamo la porta guardate qui ma che schifo allora calpesta gli insetti cinque volte ma è orrendo ma questo qui non pulisce che schifo ma è orrenda questa cosa ma guarda ci non mi piace ci sono altri in sé oh guardate qui bla li hanno fatti troppo veri tiri guardate che schifo oh guardate in bagno ma questo non pulisce calpesta gli insetti e guardate qui ce la facciamo e anche in camera praticamente si spostano vabbè calpestiamo tutti gli insetti schifosi allora intanto sviluppiamo la aspetta voglio fare vedere una cosa dovrebbe scrivere anche un libro però sviluppiamo non so la scrittura tu sviluppa il carisma e tu sviluppa ah sì anche tu il carisma dai basta li ho distrutti tutti visto che ci sono effetto dei controlli ispettivi visto che questa casa cade a terra magari sulla cucina effettua allora come si fa effettuare uno controllo ispettivo visita un'unità in locazione di proprietà del tuo sim seleziona vari oggetti distruttibili effetto una ispezione di manutenzione ok allora facciamo un'ispezione qui ai fornelli magari al water no scusate allora manda tutti gli studenti da soli e lei facciamo che studia sodo e lui lui ozio oggi non c'è voglia di studiare magari tanto che ci sono vado anche al al piano terra per vedere l'altra conquilina come sta e poi andiamo a visitare l'unità abitativa di acqua song oh periodo di grazia vediamo cosa c'è da fare il ciclo della durata del contratto di locazioni di tre lungo fiumi è stato rimpostato è in vigore un periodo di grazia che rimarrà attivo fino alle nove di mercoledì ogni volta che si completerà il ciclo della durata di un contratto di locazione alle nove del giorno seguente inizierà un periodo di grazia in tale fase il proprietario potrà sfrattare gli inquilini o aumentare l'affitto senza influenzare la valutazione dell'unità abitativa io direi di farlo ma non posso sfrattarlo lui non paga mai niente ok dai visto che ci sono piove a dirotto in buca la multa facciamo nessun eccesso di rifiuti perché è sempre sporca sta sta casa e poi anche ok e poi andiamo al piano terra per vedere come sta aquasong a proposito dove è pawn voglio parlargli prima blocca la visuale acqua acqua facciamo la multa per nessun rumore molesto gli diamo anche questa multa qui oh vittoria riscosta la multa per l'inflazione della regola nessun eccesso di rifiuti ce l'abbiamo fatta adesso gli diamo anche questa niente non ci vuole pagare allora sfratta sfratta giustamente chiediamo come va allora vediamo un attimo qui pawn che non ci ha ancora pagato questa multa però ci ha pagato questa e io direi di durata del contratto sette giorni io questo qui lo sfratto cioè non ci paga le multe non vediamo così anche come funziona lo sfratto e lo sfrettiamo giustamente perché comunque è da giorni che gli diamo questa lui non paga mai quindi se ne vada ciao non è più il benvenuto in questa casa non ce la fa più e Sidney è sicuro di voler procedere con lo sfratto l'unità familiare lascerà l'unità in locazione con effetto immediato sfratta l'unità familiare basta sfratto in corso dobbiamo fare qualcosa va bene non so se dobbiamo fare qualcos'altro ma io direi di ah non posso fin quando non va via il conquilino intanto gli diamo la multa prima che se ne vada la multa no guardate niente ho fatto bene a sfruttarlo intanto controlliamo la casa ancora l'unità in locazione sarà lasciata libera e tornerai al tuo lotto di residenza ok ok e adesso andiamo a vedere quindi non c'è più pawn modifichiamo lo stato d'affitto davvero ok andiamo a visitare l'unità abilitativa al piano terra allora facciamo anche qua ma cosa è successo non c'è più il il com'è che si chiama il fornelli allora effetto una manutenzione ok quindi abbiamo effettuato tutti i controlli aspettivi degli immobili di residenza e dobbiamo gestire un evento di emergenza lavoro lavoro da casa lamento di delle condizioni a caso in un'area condivisa trovo un oggetto consumato e lamento di delle condizioni conosimile le vicinanze va bene risultato di noa sopra la media cioè non fai compiti non studia e lei 10 bravissima ok puliamo le vaschette perché comunque siamo noi proprietari e ci dobbiamo occupare un po' di tutto io direi che possiamo tornare a casa si torniamo a casa ah però voglio parlare con acqua song prima dove la trovo ah posso aggiornare anche questo in effetti io direi di aggiornare anche qua e poi posso anche effettuare un'ispezione su questi vabbè aggiorniamo e poi andiamo un attimo a casa dai perché comunque è vero che il piccolino è stato mandato all'asilo probabilmente la mamma l'ha mandato all'asilo nido perché comunque i genitori lavorano allora un'ultima cosa abbiamo aggiornato anche qui occupiamo il posto per il terzo piano io direi di aumentare un po' l'affitto e fare 150 lasciamo a questi tre regole selezioniamo gli inquilini quattro giovani adulti però non c'è posto e anche due giovani adulti ci possono stare perché comunque ci sono due camere magari sono marito e moglie quindi facciamo due giovani adulti e poi volevo aumentare anche lei il prezzo a 150 quindi sono arrivati gli shadow beh visto che siamo qua visitiamo l'unità abitativa ed ecco qui gli shadow allora abbiamo l'una shadow che ci presentiamo non so se poi l'altro è il marito o altro ah beh giustamente dobbiamo origliamo vediamo proviamo a origliare vediamo cosa succede qui non ci sono segreti forse una vita caccia nei panni sporchi altrui non è scritta nel destino vabbè lui non è uno che si fa gli affari degli altri niente bussiamo la porta dentro giustamente noi bussiamo dentro e usciamo ok entra pure e salutiamo presentazione allegra con l'una e poi ci dovrebbe essere l'altro ciao io sono il proprietario di casa ti do il benvenuto e magari chiediamoli subito della carriera che lavoro fa spero che ti troverai bene risata viscerale vi siete proprio trasferiti il giorno di natale una cosa bellissima chiediamogli della soggiornata insomma facciamo un po' di amicizia vantati del simnonato a me è appena nato un figlio eccetera eccetera e voglio sapere se è sposata o forse sono due amiche ma sono due amiche quindi salutiamo anche com'è che si chiama Gretchen Wolf in bagno piacere di conoscerti ok non si vediamo allora Sidney pensa che Gretchen non so come si pronunci è molto responsabile lui pensa che Sidney sia un tipo appiccicoso invece vediamo Luna anche secondo me ah Sidney pensa che Luna sia una tizia un po' pretenziosa e lui responsabile ah lei è un agente segreto ostrega e lei lei non lo sappiamo beh diciamo anche a lui spero condividi lo spirito della vigilia di Natale ti troverai bene e e chiediamo anche delle condizioni vediamo se gli piace comunque l'appartamento da bravo proprietario di casa e poi stavo pensando per il giorno di Natale sarebbe bello festeggiare fare una festa con tutti gli inquilini se domani non piove non dovrebbe piovere c'è nuvolo quindi sarebbe proprio una bella idea mi sembra entusiasta della casa andiamo a chiederlo alla tua amica te come ti trovi ti piace non gli ha risposto chiediamoglielo ok risata viscerale e chiediamogli solo per pura curiosità che cosa fa della carriera sono due ragazze giovani tu che lavoro fai una babysitter va bene ok vabbè ragazze spero che vi trovate bene mi raccomando le regole e economiamo gli inquilini dai mi raccomando le regole buona buona permanenza raccolta di beneficenza il momento di fare del bene con una raccolta di beneficenza partecipa donando qualcosa per dare anche tu prova di generosità va bene dai posso andare un attimo in bagno scusate posso un attimo velocemente grazie molto gentili e allora facciamo la beneficenza anche noi beh paghiamo le bollette e spedici l'articolo di beneficenza ovvero il ceppo per coltelli dai che ha fatto lui e salutiamo anche acqua magari affitto e chiediamo le condizioni dell'unità se va tutto bene oh ma che carina posso anche curiosare vabbè oggi ci siamo occupati un pochino oh ma guardate che carina che si occupa di tutto allora come ti trovi no davvero perché chiacchieriamo con lei forse condividi lo spirito della vigilia di Natale dai e vendiamo tutto parere inadeguato beh di sicuro è apprezzabile che il simiquilino si mantenga obiettivo ma Sidney non si sente particolarmente gratificato dopo tutti gli sforzi che ha profuso vabbè se non si trova bene allora non ho idea di quando mi pagheranno però vabbè dopo dopo avere vabbè qua venduto un po' tutto vabbè piantiamo anche l'aglio io direi di andare a casa qui abbiamo fatto tutto vabbè tranne loro però vabbè io direi di andare a casa e mangiare ok sono tornata a casa vabbè l'è qui non so perché vabbè doniamo in beneficenza anche noi cosa possiamo donare doniamo la medicina allora visto che tutti hanno fame il piccolino dov'è ma no dio prendiamolo subito chi è che l'ha abbandonato qui lo prendi in braccio ok allora per favore cambiati d'abito e apri la valvola allora voi apparecchia la tavola per favore puoi prendere il bambino porta l'interno per favore e prendi tutte le porzioni questo è semplice semplice riso perché se non sbaglio devo seguire un'altra ricetta di tom maranga quindi facciamo questo qui i ragazzi invece magari lei fa i compiti ma sì anche se domani non c'è scuola e tu per favore ripulisci tutto grazie invece lei voglio farla svagare un attimo e andare con lei ho il seno gonfio poverina lo facciamo così estraiamo il latte materno prima e così lo mettiamo in frigor e così anche tutti gli altri possono dare da mangiare al piccolino e poi volevo andare qui al mercato notturno eccoci qui nell'altra parte di tom maranga più la parte possiamo dire cittadina perché qui iniziano proprio il mercato notturno con tutte le bancarelle e ci sono anche delle bancarelle che chiudono alle due direi perfetto perché il mercato è chiuso però dai è molto carino no ma che sfortuna ma io sono sfortunatissima è chiuso è tutto chiuso però guardate che belle luci è proprio bella la città niente con la delusione di Ellie che voleva visitare il il mercato io direi di concludere qui il video è stato un video un po' molto molto tranquillo ci siamo occupati un pochino della della palazzina il giorno dopo è Natale quindi festeggeremo se non piove volevo festeggiare con tutti gli inquilini e fare una bella festa appunto in giardino speriamo di farcela io vi ringrazio tantissimo di aver visto il video fino a questo punto vi ricordo di mettere un mi piace di iscrivervi al canale io vi mando un grosso bacio e alla prossima ciao